Se vi servono crediti passate dal link in descrizione e con il codice MENZOMR avrete subito il 5% di sconto Oh, andiamo a registrare un bel video della carriera allenatore Cos'è Ultimate Team? Ma che cazzo è? Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Come avete visto da questa ridicola e brevissima intro Siamo tornati finalmente dopo tantissimo tempo dall'uscita del gioco su FIFA Ultimate Team Vi spiego brevemente ragazzi, non ci ho giocato molto quest'anno come si è visto anche con i video sul canale Perché mi sono affezionato e ho appuntato tutto sulla carriera allenatore Ma quello che voglio fare io è cercare di acquistare qualche giocatore giovane e forte per fare, per riniziare la nuova serie Le giovani promesse Come ho già detto ragazzi non ho giocato moltissimo a FIFA Ultimate Team come si può vedere dalla squadra Che è abbastanza scarsa devo dire, anche se ci sono buoni giocatori Sono ancora in divisione 8 Quindi ragazzi io mi farei un paio di partite giusto per appunto partire con questo FIFA Ultimate Team sul canale Magari ci sarà tempo anche per fare qualche foot draft E niente ragazzi, spero che questo video vi possa piacere Mi raccomando ho lasciato un po' di mi piace per il sostegno e per il ritorno su FIFA Ultimate Team Ah, queste cose non mi mancavano per niente Un'ora per trovare il giocatore avversario 200 mi piace, le cose che odio di FIFA Ultimate Team Vabbè ma chi richieste che dà un pallone in profondità non si può vedere Attenzione perché Bellarabi lo trasforma in oro Attenzione perché Karim Bellarabi lo ha trasformato in oro Non ho fatto niente Bellarabi Ho sbagliato tasto, volevo fare un mega schillone Attenzione a Van Ryn Oh, poi, io non ci credo Che è possibile La palla resta lì, Ballotelli fa ripartire Darmi Anna Attenzione perché c'è ancora Van Ryn Diego Alves Attenzione a Schmelzer Che c'ha la bomba Bravo cacchio Oddio che azione Di questo depo Oh, la vuoi prendere sta cazzo di palla Vabbè Raggi è un fenomeno Cioè ha veramente 80 anni Bellarabi La mette in mezzo Dove c'è mia nonna? 1-0 Gran gol della nonnina Non so più chi fosse Però quello che ho detto Dove c'è mia nonna Era invece Era Joic Che segna L'1-0 Alla fine del primo tempo Che era il lavoro Di Karim Bellarabi Detto anche Kevin Bellarabi E gol di Milo su Joic Incredibile signore Fantastico Proprio lui Guarda è Bastardo io C'ha la Noglu Può andare Può andare C'ha la Noglu C'è in mezzo sempre qualcuno Che Madonna Finisco il primo tempo Ho sbagliato io Però Bellarabi Mamma mia Oddio Oh Oh Candreva Fermatelo Porca troia Che palle Oh ma Io ho il classico Gollettino della minca Devo sempre prenderlo Ma adesso vado anche a perdere Però Vai ciccia Vai Ma va a fanculo Vai Vai a cacare Porca puttana Ci si è allungato il pallone Di 60 metri Oh Diego Alves Sbagliato Sì Mister Canede Mister Canede Qui non smette di crederci Diego Alves fa un pappone Poi Hernandez ne approfitta Siamo 2 a 1 Siamo sopra Regaz Surle Pam Un altro Palo Un altro Traversa Un altro No L'ho preso tutto Adesso ho preso tutto Prima ho preso il palo Poi la traversa Ci mancava solo l'incrocio E L'ho preso Attenzione Guardate che cosa che faccio Bam Oh Oh Quasi Cioè quasi Oddio Sono andato C'è la Bam Non ci credo Che parata ha fatto Gigla Alves Ah Sì Sì Grande Zoet Guarda che adesso parte in velocità Kiriches Oddio Oddio Ragazzi che palla che ha messo Vai Madonna 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 Porca puttana Devi far quello Hernandez E' segato Bella ravi Signori Calcio di rigore Siamo fortissimi Siamo fortissimi Olè 3 a 1 La chiude probabilmente a canciallonogo Signori Su calcio di rigore Dopo un'azione splendida Di tutto L'organico Questo calcio di rigore Ma precedentemente Il rigore lo siamo procurati Con un'azione splendida Corale Oh porca puttana Oddio Che miracolo Di Zoet Guarda che coglione Boom Segato Un altro rigore Perfetto Boom No vabbè Non sono riuscito a fare il cucchiaio Ho tirato un rigore Pessimo Veramente Osceno Comunque 4 a 1 Ragazzi La partita E' andata I tre punti sono nostri Comunque ragazzi Oltre che nella carriera Allenatore Dimostriamo una potenza Di gioco Incredibile Anche su FIFA Ultimate Team E si vince 4 a 1 C'è Dito Hernandez Migliore in campo Ma è dire che si può Proseguire subito Con il secondo match Di oggi C'è un logo dalla bandiera Gusan Attenzione Guardate Guardate Varish Che c'è il tiro da fuori La bomba Incredibile Fuori di Un paio di medel Nei pulcini La facevano Boom Signori Non ci credo Oddio Surle Ma porco Ma che cazzo è Ma una rovesciata Incredibile No Dio Dio Ma lo sapevo che dava Reware Porca puttana Ci ho provato Eh ci ho provato Infatti Ha tirato male Anderson Ma perché l'ha falciato Zoet contro Gerrard Il tiro di Gerrard La parata di Zoet No Sto cazzo Si André Schurle Sul calcio d'angolo Fantastico Di Akan Cialanoglu Signori Uno pari Calcio d'angolo Battuto Verso il primo pallo Non esce Guzan Lì c'è un'orgia Incredibile Di miei giocatori Per fortuna Qualcuno è riuscito A colpire Oddio Se ne va Hernande Perfetto Guardate da qua si vede benissimo Pam Di esterno Niente da fare per Guzan Ma va via Puff Ehi là Che spettacolo Puff Boom Signori Tre passaggi di prima Per mettere davanti al portiere Akan Cialanoglu Uno Due Scusate il due E il terzo è un tiro Che non è di prima Però Una classe unica Per Akan Cialanoglu Attenzione perché Bellarabi Ricopre un gran pallone Può andare ancora a Karim Bellarabi Attenzione perché C'è Cialanoglu Che c'è Cialulè Attenzione Shurle la mette in mezzo Dove c'è Bellarabi Guzan il miracolo Ma che cazzo fa Bellarabi Porca puttana Ci ha bagato tutto Attenzione Shurle C'è in mezzo Hernandes Fammi la rove Bam Non è una rovesciata Ma è 4 a 1 Signori Match Closed Qua Shurle Pallino veramente merdoso Perché poteva dare qualcosa di meglio Poi Hernandes Con la sua Classica classe Uh 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 Attenzione a Chamberlain Che è veloce Fai uscire Zoet Fai uscire Zoet Giusto così 4 a 2 Me lo sono meritato Mi ha Mi ha colto impreparato Qui 4 a 2 Signori Signori Bellarabi ha segnato Della posizione Veramente improbable Vabbè C'è l'anogulo Qui Tiro Che scende Guzan la respinge Poi Bellarabi Un siluro Finisci qui il match Signori 5 a 2 Direi che questi due match Sono stati veramente Devastanti Modo migliore Per iniziare questo anno nuovo Con FIFA Ultimate Team Che accompagnerà come sempre La carriera allenatore ragazzi Ci siamo salvati Ma io vi saluto qui ragazzi Vi ricordo di lasciare Tanti mi piace Arriviamo a 200 mi piace E farò le cose che odio Di FIFA Ultimate Team Consigliatemi sotto ragazzi Nei commenti Dei giocatori Giovani e forti Da poter utilizzare Nella serie Giovani promesse Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Vi ricordo Di seguirmi sui social E noi ci vediamo Ad un prossimo video Un saluto alla menza Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti